Eccoci qui, buongiorno amici followers, bentornati sul canale. Bentornati a una consueta analisi settimanale dove andiamo ad analizzare un po' tutto quello che è successo settimana scorsa e cerchiamo di capire quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane. Veniamo da una settimana abbastanza rossa sui mercati, il Nasdaq perde circa un 1,5, l'S&P 500 1,05 e sul fronte europeo siamo più o meno piatti. Quello che però in questo momento gli investitori si stanno chiedendo è qual è il punto giusto per comprare, fin dove possono ritracciare i mercati per tenerci lì pronti, precisi a entrare sul mercato proprio sul minimo del ritracciamento, ritracciamento minimo e noi compriamo lì. Signori non è questo che dobbiamo fare, dobbiamo adottare una strategia sul mercato per sfruttare al meglio il ritracciamento che sta avvenendo perché è questo che effettivamente è un ritracciamento. Abbiamo avuto delle performance incredibili da inizio anno, ci sta che il mercato adesso storni un po'. In questo video quindi cerchiamo proprio di capire come sfruttare al meglio il ritracciamento che si sta presentando in questo momento sul mercato. Ma prima di fare tutto questo commento un attimo il CPI, quindi un attimo la situazione macroeconomica. CPI in America che è uscito, vi faccio subito vedere, nella giornata di giovedì, uscito meglio delle attese, ovvero era previsto un core CPI a 4.8, è uscito 4.7, molto molto bene. Era prevista un'inflazione a 3.3 e uscita a 3.2. 3.2 che è migliore del previsto ma peggio del dato precedente, però un po' lo si sapeva già quindi il mercato non è rimasto troppo scottato possiamo dire da questo dato. In tutti i casi l'inflazione americana in linea di massima sta calando, non potevamo pretendere che andasse da 5 a 2 sempre calando di volta in volta, comunque sta continuando a calare e la domanda è adesso non è più l'inflazione calerà, sì l'inflazione calerà, è matematico, con i tassi alti l'inflazione cala. Ma quello che ci chiediamo è l'economia riuscirà a reggere? Io in questo momento quale dato sto tenendo monitorato? Questo qui, le richieste iniziali sussidi di disoccupazione, sto tenendo monitorato possiamo dire così il mercato del lavoro. Perché se il mercato del lavoro inizia a rallentare la gente spende meno, solito discorso, abbiamo visto col tasso di disoccupazione che ne abbiamo parlato un paio di settimane fa, abbiamo proprio detto attenzione, tenerli monitorati i dati sul mercato del lavoro perché potrebbero essere un segnale importante. Per quanto riguarda le richieste iniziali sussidi di disoccupazione, ultimi dati usciti, guardate, siamo un po' in salita e comunque linea di massima, se lo guardiamo da marzo 2023, stiamo salendo e il trend inizia a essere rialzista, vedete, così si vede molto meglio, vedete come inizia a essere rialzista. Attenzione, perché se iniziamo a rompere queste zone qui, 265, 270, 280, non stiamo parlando di un grafico di uno strumento finanziario, però lo stesso vuol dire che stiamo salendo forte e se saliamo troppo forte potrebbe essere l'inizio di una recessione, perché meno gente lavora, meno soldi in tasca, meno spende e quindi le aziende iniziano a fare fatica. Detto questo, però, il momento da un punto di vista tecnico sui principali strumenti finanziari rimane buono e questo è un ritracciamento dell'impulso che abbiamo visto da inizio anno. Ma andiamo per gradi e già che siamo sul calendario economico andiamo anche a vedere un attimo, poi vediamo anche il Firing Red Index, vi farò vedere perché, andiamo anche a vedere i dati che escono questa settimana. Sul fronte americano niente di troppo succulento a livello di dati, sul fronte invece europeo inizia ad esserci il PIL nella giornata di mercoledì, PIL annuale secondo trimestre, qui inizieranno a prendersi qualche dato per vedere come sta andando l'economia europea, quindi da tenere monitorato un attimo nella giornata di mercoledì. La cosa più importante sul fronte europeo è la giornata di venerdì con l'inflazione che esce nella giornata di venerdì 18, attenzione, si prevede 5.3, quindi inflazione in Europa, chi viene colpito? Il Fozomib, il DAX, il CAC 40, quindi attenzione, dati sotto 5.3 risulterebbero positivi per il mercato, sopra 5.3 risulterebbero negativi. Attenzione anche a richieste iniziali su disoccupazione, giornata di giovedì, perché è un dato da iniziare a tenere monitorato, perché stanno salendo i disoccupati, iniziano a salire le richieste iniziali su disoccupazione, quindi attenzione a tenere monitorati questi dati, perché potrebbe partire da qui un'eventuale recessione, potremmo anticiparla con questi dati qui. Detto questo, adesso fear and greed index per vedere invece come sfruttare questo ritracciamento, perché? Perché quando il mercato ha paura è il momento di essere avidi, adesso siamo ancora abbastanza avidi, il trend è rialzista, non mi aspetto di vederlo extreme fear, il fear and greed index, però vederlo magari in un neutrale, un po' di paura, quindi magari qui che gira tra 50 e 40, sarebbe perfetto, perché con un mercato che gira 50 e 40, e un S&P 500 che mi torna, guardate l'area che sto tenendo monitorata, questa zona qui, in zona proprio 4.400 spaccato, sarebbe secondo me una bella occasione, perché riesco a prendere l'S&P 500 in area 4.400, guardate qui poi dopo che bella struttura che si verifica da un punto di vista supporti e resistenze, no? Quindi 4.400 col fear and greed index in area 50, 40, che vuol dire che gli investitori hanno paura, iniziano a vendere sotto valore, possiamo dire così, no? Inizia a essere interessante, perché iniziano a vendere, scusate, del valore, iniziano a vendere del valore, quindi potrebbe essere un buon momento per comprare secondo me, quindi la mia strategia è S&P 500, aspettarla 4.400, siccome questo potrebbe essere un buon target di questo ritracciamento, naturalmente questo ritracciamento potrebbe verificarsi, vi faccio subito vedere col pennellino, in questo modo, potrebbe fare un po' in su, poi tornare un po' giù, insomma non è una cosa da un giorno all'altro, però quello è un buon punto di ingresso, l'area 4.400 per il medio e lungo termine, poi dove mi terrei pronto, mi terrei pronto anche in area 4.300 e 4.200, guardate, certo è un posizionamento molto molto safe, ma chi vuole fare investimenti tranquilli, con il giusto rischio secondo me qui si fa, con questo lavoro qui, con la situazione di mercato in cui siamo, un ottimo lavoro. Andando a vedere invece il Nasdaq, sul Nasdaq dove vedo del valore, sul Nasdaq lo vedo qui, guardate, tra i 14.800 e i 14.000, qui è dove vedo del valore, questa è la mia struttura su Nasdaq, veramente secondo me qui su Nasdaq si possono fare dei buoni colpi, quindi questa è l'area secondo me di valore del Nasdaq, vendere qua in mezzo è un errore, e comprare qua in mezzo invece è cosa buona e giusta. Andando ora sul fronte europeo, il fronte europeo che continua invece questa lateralità, guardando il DAX, ma possiamo anche guardare il CAC 40 o il FUTMIB, il DAX che, secondo me, qual è il punto di ingresso migliore per il DAX? Ve lo faccio vedere subito, no? È un'area che teniamo già monitorata da tanto tempo, il DAX ha questa caratteristica di essere laterale per molto tempo, quindi secondo me è una struttura su DAX, di questo tipo, guardate, si fa un posizionamento, secondo me, perfetto, guardate, uno, due, tre entrate con stop loss che ve lo lascio proprio qua sotto, guardate, ecco qui, qui metto il mio stop, qui faccio le mie tre entrate e sono abbastanza tranquillo, naturalmente il capitale è sempre dividerlo su 10.000 euro, ad esempio, 3.300, 3.300, 3.300. Sul fronte italiano siamo arrivati al nostro punto di ingresso, c'è stato toccato il punto di ingresso che diciamo da un po' di settimane, l'area di 28.000, l'Italia che in questo momento è uno degli strumenti finanziari, da un punto di vista degli indici, che sta performando meglio, lasciamolo andare, il target può essere 30.000, quindi 30.000 potrebbe essere una buona uscita per quanto riguarda l'indice italiano. Cosa voglio dire adesso? Una cosa importante, il gas, il gas che è probabilmente lo strumento che quest'anno sta veramente regalando di più alla mia operatività in generale, a chi segue questo canale, perché? Perché sta performando molto, siamo a settembre, la stagionalità rialzista abbiamo ancora ottobre e novembre, però adesso inizia l'alta volatilità, secondo me, quello che ci doveva dare il gas da marzo-aprile a oggi ce l'ha dato, c'è l'ultimo treno e l'ultimo treno come penso di prenderlo? Lo penso di prenderlo così, guardate, 2008, eh 2008, scusate, 2008, 2007, 2006, 2005. Questa è la mia struttura su Natural Gas. Adesso è salito con forte, avevo detto esco a 2,750, sono uscito a 2,750, chiaro mi sono un po' pentito, perché c'erano un paio di candele belle verdi che si potevano sfruttare, però qual è il mio lavoro? Il mio lavoro è prendere dei pezzetti di trend. Qui apro proprio una piccola parentesi, quando fate trading e vi trovate in questi casi qua in cui vedete che il mercato, magari voi siete usciti, avete raggiunto il target e poteva salire ancora. Cosa vi consiglio di fare? Vi consiglio di mettervi l'anima in pace fin da subito, non andare in fomo e dire devo rientrare, devo rifare perché fate dei danni. Il nostro lavoro è prendere dei pezzetti di trend, quando abbiamo un grosso vantaggio statistico sul mercato, tutto lì. In questo caso ce l'abbiamo avuto, è arrivato fino a 3, fa lo stesso, sfruttiamo il ritracciamento, come vi ho appena fatto vedere proprio quel grafico e guardate, a 2,8 siamo già rientrati, la struttura sotto ce l'abbiamo, se il gas ci premerà ancora da qui a fine agosto, molto molto bene, altrimenti pace. Prendiamo le nostre posizioni, abbiamo fatto profitti, è da marzo che facciamo profitti sul gas, adesso è il momento di uscire. I mesi di ottobre, novembre, dicembre, lasciamoli agli altri. Noi tradiamo, qui guardate, tra 2 e 3, sopra 3 inizia a essere troppo alto il prezzo, lasciamolo andare, fa lo stesso. Visto anche il natural gas, faccio due commenti proprio, un commento velocissimo, proprio qui sul USOIL, USOIL che è arrivato in area 84, per me il petrolio in questa zona, sopra i 75, inizia a essere troppo alto, quindi tutto quello che succede sopra i 75 mi fa dimenticare totalmente di questo strumento finanziario. Per me da 75 inizia a essere interessante, tutta questa zona per me è troppo alta e quindi io dico, fa lo stesso. Chi se ne frega del petrolio? Comprare 83, 82 può essere rischioso, no? Perché non è detto che arrivi a 90, però anche venderlo è rischioso. Dov'è che io ho del valore? Dov'è che io ho del vantaggio? Qua sotto, qua sotto. Allora io quando arrivo qui mi inizio a posizionare e comunque vi farò vedere nei video, ma prima assolutamente no. E vista anche questo, due paroline proprio, poi ho finito veramente, su BTC, BTC che, adesso appena me lo carica, BTC che rimane laterale, è un gran momento di lateralità, qual è la nostra zona d'ingresso? 28,3, qui non cambia assolutamente su BTC, 28,3, target 30.000, vedremo se ci arriverà. Se non ci dovesse arrivare nei prossimi tempi, fa lo stesso, ci sono altri strumenti finanziari, altre occasioni. Detto questo, adesso voglio chiudere il video, quindi dicendovi cosa? Dicendovi che è la settimana di Ferragosto, non pensiamo, siamo a Ferragosto, sui mercati tanto non succede niente, perché i mercati continuano a muoversi anche se è Ferragosto, e Ferragosto solo in Italia, perché negli Stati Uniti, nel resto d'Europa si continua, e quindi la gente continua a investire, i mercati continuano a muoversi. Quindi, non pensiamo, ah sono in vacanza, allora me ne frego dei mercati, tanto cosa vuoi che succeda? Potrebbe succedere qualcosa di grosso anche questa settimana, quindi rimanere attenti. Per quanto potrebbero scendere i mercati? Avete visto, nessuno può saperlo. Però, bisogna avere una strategia tale per cui, se dovesse scendere, riusciamo a prendere a valore. Quali sono i prezzi di valore? 14,8, 14,4 per quanto riguarda il Nasdaq, no? 4.400, 4.300 per quanto riguarda l'S&P 500? Benissimo. Allora lì noi ci iniziamo a posizionare e siamo belli precisi sul mercato, perché abbiamo un vantaggio. Eh? Tenere monitorato il Fiora Ingrid Index che ci dice un po' quello che sta succedendo e soprattutto il mercato del lavoro americano, perché un'eventuale recessione iniziamo a vederla da lì. In questo momento i dati sono ancora buoni, ma teniamoli monitorati, naturalmente vi terrò aggiornati. Detto questo, per quanto riguarda l'analisi settimanale, è tutto. Io vi ringrazio per la visualizzazione, se il video vi è piaciuto, come sempre, un bel like di supporto e noi ci vediamo per i prossimi contenuti, sempre qui sul canale. Grazie. Grazie.